Un altro borgo abruzzese entra a far parte della famiglia dei borghi più belli d'Italia. Si tratta del comune di Palena. La cerimonia ufficiale di consegna della bandiera, simbolo dei borghi più belli d'Italia, si è svolta a teatro comunale e porta a quota 26 il numero dei centri abruzzesi certificati che fanno parte di questa importante rete nazionale di promozione dei borghi. A consegnare la bandiera al sindaco Claudio Di Miglio è stato il presidente nazionale Fiorello I insieme al coordinatore regionale dell'associazione Antonio Di Marco. L'arrivo di Palena è sintomo di crescita ma soprattutto di realizzazione di un progetto ambizioso che abbiamo messo in piedi 5 anni fa come associazione interregionale e che ha visto i sindaci impegnati in prima linea affinché i comuni meno conosciuti fossero anche più conosciuti e anche strategici nelle politiche di sviluppo turistico nazionale attraverso la nostra associazione nazionale dei borghi più belli d'Italia. Questa rio di Palena ci fa bene perché ci fa ben sperare dal punto di vista anche degli ulteriori obiettivi che ci siamo prefissi in assemblea interregionale anche perché andremo in Calabria nel mese di settembre il 6, 7, 8 settembre al festival nazionale e porteremo un risultato ancora più incoraggiante perché l'idea del film Un mondo a parte che si è evidentemente realizzato in Abruzzo tra i territori che conosciamo bene, quelli di Pescassero ma segnatamente di Opi che è uno dei borghi più belli d'Italia ci farà anche conoscere in una platea nazionale che guarderà con attenzione questo prodotto cinematografico. Qual è l'obiettivo ulteriore che noi vogliamo conseguire? Intanto far crescere la regione Abruzzo e la regione Molise perché noi siamo attrattori di interesse nazionale e internazionale anche attraverso flussi sempre più consistenti di turisti che arrivano proprio perché sanno che i nostri borghi sono certificati quindi rappresentano quella garanzia che i turisti cercano dove ci sono i servizi, dove ci sono ovviamente spazi adeguati per essere ospitati nella ricettività, nella ristorazione, i prodotti tipici l'artigianato come è presente qui a Palena in modo diffuso l'archeologia che qui evidentemente la fa da padrona sapere che abbiamo tutto questo in un angolo d'Abruzzo poco conosciuto che invece merita di essere promosso e valorizzato significa avere obiettivi importanti da perseguire e noi questo è quello che faremo e lo facciamo insieme ai sindaci i sindaci che sono impegnati in prima fila, in prima linea e lo facciamo anche attraverso l'impegno del Presidente nazionale I primi Presenti alla cerimonia l'On. Alberto Bagnai il sottosegretario della Giunta regionale Daniele Damario e numerosi sindaci dei borghi più belli d'Italia per Palena entrare a far parte dei borghi rappresenta un traguardo atteso e raggiunto con orgoglio per il quale si sono fortemente impegnati il Vice Sindaco Maria Grazia Carrozza e il Sindaco Claudio Di Miglio che ascoltiamo Siamo veramente contenti, orgogliosi e felici per la nostra cittadinanza che finalmente viene coronato un sogno di una vita tante amministrazioni ci hanno provato la nostra ci è riuscita un grazie a tutta l'amministrazione un applauso particolare al Vice Sindaco che si è adoperata tantissimo e grazie ai cittadini che tengono questo paese che è un bijur e pertanto non potevamo che essere premiati